Ciao ragazzi, allora 20 dicembre siamo qui, fra poco ci sarà Natale, che cosa facciamo a Natale? Noi cominciamo a mangiare troppo, cioè veramente mangiamo troppo, però c'è una cosa che succede sotto a Natale che vogliamo pagare il nostro palato. Allora, come facciamo senza metterci, diciamo, alla linea, al repentaglio? Che cosa possiamo fare? Beh, possiamo utilizzare i prodotti di Foodspring. Perché? Perché i prodotti di Foodspring sono delle scamotage, perché nessuno, non c'è un essere umano là fuori che mi può dire che psicologicamente non è bello di mangiare una pizza o i pancake, ok? Perché è umano, cioè gli dici, pensi a un film americano, pensi alle pancake, pensi a, non lo so, una gita con i vostri amici, pensi alla pizza. Allora, quando noi abbiamo la voglia di appagare il nostro palato, ma siamo in linea o stiamo provando di tenerci in regime alimentare o stiamo provando di fare una nutrizione più corretta, spesso e volentieri vediamo sia la pizza che i pancakes come un cibo proibito, che non è così. Perché adesso, grazie alla protein pizza di Foodspring o le protein pancakes, posso fare una prima colazione super nutrizionale, super buona, con tante tante proteine, poco zucari, ok? E tanto, tanto, tanto gusto. Per quattro pancakes abbiamo la bellezza di 53 grammi di proteine, quasi tutte le proteine che vi servono in un solo giornata. E le proteine sono fondamentali per aiutare i nostri muscoli a mantenere il loro verbo, la loro forza, per aiutarci a ridurre le incidenze di sarcopenia, a rimanere sempre in questa discoteca. Se tu ti alleni e mangi bene, ragazzi, questo corpo, questa macchina dall'anima arriverà fino a 90 anni che ti canta, ti suona, ti balla e ti diverte. Ma invece io se comincio a mangiare male e i grassi saturi e mangio troppo zuccheri e mangio male, che cosa potrebbe succedere? Potrei proprio ingrassare e non sentirmi bene. L'altra cosa che voglio parlarvi è della protein pizza. La protein pizza è fighissima perché 100 grammi abbiamo soltanto 300 calorie. Ricordate che le ferine normali viaggiano su 350 calorie a 100 grammi, perché ci sono tantissime fibre. Abbiamo 35 grammi di fibre alimentare, che è un prebiotico che aiuta a nutrire i nostri probiotici nel microbioma. 27 grammi di proteine. Così poco zuccheri, tante proteine. Però pensate di avere prima colazione da campioni, la mangio con un sciroppo di acero puro, non quelli con i zuccheri aggiunti. O altrimenti posso usare una marmalata di food spring ricca di frutti e poveri di zuccheri. O posso usare la protein cream della food spring che... Niente, è quasi una droga per me, specialmente quello bianco. La protein cream bianco è una cosa da imbarazzare. E poi possiamo farci magari a cena o pranzo nel nostro giorno, quando vogliamo mangiare con gli amici, una protein pizza. Così. Buon Natale a tutti. Risolto il problema di avere il gusto senza senza di colpa. E tutto questo è possibile con food spring, ma non dimenticate che c'è il mio sconto. GIL YT. Quando siete sul checkout avrete anche 15% di sconto su tutti i prodotti di food spring. Che sono veramente la soluzione. Ma ragazzi, non c'è uno sportivo che non vuole mangiare ogni tanto fuori la sua nutrizione controllata. E food spring ci dà l'ottima scelta. Ok? Baci a tutti. Buon Natale a tutti. Vi voglio bene. E ci vediamo a 2020. A presto. 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 Grazie a tutti.